buongiorno ci troviamo a johnson petersburg alaska e oggi proveremo questo bellissimo cesna 185 skywagon abbiamo acceso i motori e tra poco rulleremo verso una pista il cielo è parzialmente coperto vento a terra 8 nodi circa siamo nel giuggetto la testa da pista e poi procedere al decollo abbiamo manetta si parte l'aereo che colla moltissimo spazio anche per questo è molto adatto a volare in queste zone dove ci sono viste corte montagne che siamo in salita da aeroporti di johnson petersburg e ora diriggiamo verso est possiamo assistere a una bellissima alba intanto ci guardiamo intorno mare calmo il nostro viaggio è iniziato 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 credito il nostro viaggio è iniziato il nostro viaggio è iniziato capito Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.